buonasera buonasera ben ritrovati dentro il nostro armadio ciao stefania ciao adriana ben trovati anche a tutti voi buona sera allora oggi vi diamo dei consigli su come vestirvi in base a come siamo fatte ecco che è la cosa migliore perché siamo stufa di adattarci noi ai vestiti e dimagrire fare cosa esatto se una cosa di moda la vogliamo mettere a tutti i costi no vi diamo dei consigli in base a come siamo fatte come siete fatte in modo da non sbagliare assolutamente sì infatti noi abbiamo sappiamo a meno dobbiamo farci un esame e capire che fisico abbiamo se abbiamo un fisico a mela se abbiamo un fisico a pera se abbiamo un fisico a rettangolo o a clessidra noi lo studieremo insieme per esempio se voi avete queste caratteristiche che vi stiamo facendo vedere cioè il che siete più piccole nella parte alta quindi ad esempio spalle piccole vita piccola e poi invece vi aprite nella parte del delle culotte de cheval come si sedere le gambe io parlo in maniera più semplice allora immaginate altrimenti una linea dritta guarda che mi parte dalla testa da sotto l'ascella fino in giù se va così siete rettangolo se invece va così siete a pera come una pera la pera è la parte in alto più piccolo della parte in basso più larga ok sono tante che hanno il fisico a pera perché la donna e tende a ingrassare nella parte sotto e se ha le spalle piccole se ha il torace piccolo al fisico a pera esatto bisogna guardare anche la struttura ossea ci sono altre caratteristiche sì diamo avanti vediamo sempre questo qua ecco se quindi come dicevi prendete qualche chilo voi sapete che lo localizzate tra basso addome e fianchi sedere cosce oppure non riuscite mai a dimagrire in questa zona perché siete fatte così e avete anche magari bari centro basso ovvero che la misura del vostro busto è più lunga di quella delle gambe cioè siete brevilinea si dice essere brevilinea cioè avere il busto più lungo delle gambe questo è la caratteristica del fisico a pera se avete il fisico così cosa dovete fare dovete cercare di restringere la parte a alta otticamente e quindi catalizzare la tensione sopra cercando di appunto dovete restringere la parte bassa scusate e allungare la gamba volevo dire e catalizzare l'attenzione nella parte sopra che invece c'è quella da valorizzare come fare sembra più difficile di come ve l'avevamo spiegato ovvero dovete spostare l'attenzione siccome la parte più brutta è quella sotto dovete fare dovete fare in modo che tutti guardino la parte sopra grazie ma ok come uno allora catalizziamo l'attenzione sopra con delle spille per esempio cerchiamo queste maglie con i brillantini delle maglie che siano wow effetto che si nota per esempio se io guardo lei certo tu dirai anche la gonna beg lei però sopra è ovvio che ti catalizza l'attenzione trasparente cioè addirittura dobbiamo attirare l'attenzione sopra poi un altro trucco un altro trucco è come farlo vediamo insieme ad attirare l'attenzione sopra vediamo eccola qua con magari degli escamotage del vestito quindi in questo caso una specie di ventaglio barra coda di pavone del vestito di jennifer lopez che appunto si si smorza su tutto il vestito però di fatto è la parte del busto che è valorizzata anche in questo caso noi siamo portati a guardare sopra sono dei trucchi ottici trucchi ottici anche rispetto all'uso dei colori cioè colori chiari vanno messi sopra chiaramente vediamo la foto successiva esatto se siete più grossi sotto il colore più chiaro che usate deve andare sopra se avete un look chiaro non so il beige sotto il bianco sopra se fosse il beige marrone mettiamo il marrone sotto e il beige sopra cioè il colore più scuro sarebbe meglio metterlo sotto ma questo è il trucco poi le gonne le gonne che stanno bene a chi ha fisico a pera sono le gonne midi o le gonne maxi cioè quelle che stringono nella parte più stretta cioè della vita quella dove si misura mentre si allargano sotto quali che sbagliano chi le mette a vita bassa queste perché se le vetti a vita bassa e tutto accorci ancora di più le gambe invece se parti da qua e metti o la gonna che si allarga a quel punto tu copri tutta la parte attenzione alla forma qua deve avere quella forma non deve essere la forma che un po ti fascia che così sempre tutta la no è terribile esatto la forma non deve essere fasciante ma deve essere un po a ruota un po a ruota quindi un po nascondente diciamo così e la vita deve essere alta benissimo così siamo state chiare l'orlo delle giacche questa è una cosa carina questo è un trucco cioè attenzione quando usate la giacca l'orlo della giacca cioè la parte finale della giacca non deve essere dove vi si allarga il fisico per esempio qui a lei si allarga un po più in su di dove ha la giacca si allarga nella parte del dove ha la mano dove ha la mano se l'avesse messa lì sembrava tre volte più grande più larga quindi la giacca deve finire o prima o prima o prima all'altezza della vita dove ha la cintura sì o dopo dove finisce esatto non deve finire nel punto più largo del fianco io proprio l'immagine non so voi di certe signore poi non l'abbiamo messa per delicatezza nel senso che poi girano anche quelle foto però non è carino mettere il no però proprio la signora che ha la giacca che la taglia sul sul fianco quindi o giacche corte corte o giacche più lunghe del fianco nella parte più larga mi sembra che l'abbiamo spiegata più di così non si può invece i pantaloni i pantaloni a palazzo sono i pantaloni più idonei a chi ha il fisico a pera quindi quelli un po un po larghi che si allarghi con la gamba che va giù o che sia un po scampanata o dritta ma la cosa importante come hai scelto la foto proprio giusta è che la vita sia alta la vita si deve essere alta è un trucco soprattutto per chi ha il baricentro basso sì sì perché sembriamo molto più alte con la vita alta del pantalone e il pantalone a palazzo è un trucco che funziona molto bene per spostare l'attenzione per mascherare la parte più larga del fisico volevo darvi un consiglio che vale per tutti i fisici ovvero voi fatevi l'analisi in base alle caratteristiche che vediamo su quale fisico è il vostro dopodiché quando l'avete trovato per rendervi più facile le cose voi sapete che non so jennifer lopez al fisico come il vostro cioè avete magari i fianchi più lari no aspetta 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 stiamo ancora parlando aspetta regia dopo dopo vediamo anche a clessidra cioè siate clessidra pera rettangolo triangolo invertito voi trovate poi trovate un vip che ha il fisico come il vostro e guardate come si veste questo potrebbe essere un trucco comunque finora abbiamo parlato del fisico a pera che ripeto è quello come una pera con la parte alta del 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 corpo più piccola della parte bassa ok fisico a clessidra il secondo fisico che facciamo è un fisico che ha sicuramente la vita stretta come una clessidra e la larghezza delle spalle è simile a quella dei fianchi che fa così sì a pera invece era più grande quella dei fianchi a clessidra uguale è simile allora vediamo fate vedere noi così facciamo vedere il disegnino allora pera è così giusto stefania a clessidra è così come la clessidra la spalla larga poi si restringe poi si allarga sì molte delle personalità più famose hanno e più belle hanno il fisico a clessidra perché è il classico 90 60 90 sì perché o per spalle tu intendi anche il seno ovviamente tutta la parte sopra non so una belen alla classica forma clessidra che è quella che faceva john travolta che ora non si può più nominare con gris esatto che aveva proprio le forme sinuose poi c'è clessidra e clessidra ovviamente la clessidra magari quando accumula peso tende a diventare ginonica esagerata quindi bisogna anche bilanciarsi certo però diamo dei consigli anche alla clessidra esempio cosa dovrebbe evitare la clessidra allora vediamo subito cosa evitare i colli a barchetta allargano le spalle le spalle sono già giuste non dobbiamo allargarlo ulteriormente non dobbiamo neanche metterci cose oversize quindi maxi maioni maxi jeans quelli che nascondono il punto vita che è il punto forte e sì perché se no sembra un armadio perché già allarga le spalle e largo il fianco diventa tutta una roba enorme poi lo stesso le cuciture orizzontali sui fianchi allargano la figura quindi le righe le gonne con le righe sui fianchi no e le maxi fantasie gli abiti impero voluminosi le cose extra cioè chi è clessidra è già tanta non ha bisogno di caricarsi esatto quindi la semplicità direi che è il trucco no che il passepartout che va bene per chi ha il fisico a clessidra la scollatura come deve essere abbiamo detto non a barca quindi non a barchetta la facciamo rotonda questo hai preso un clessidra molto anche giunonica ma che comunque per far vedere la scollatura rotonda poi chiaro che noi non ci mettiamo così perché questa è una serata di gala certo però però la scollatura rotonda hai dato un esempio chiaro poi gli abiti come hai detto no maxi no over ma aderenti aderenti perché comunque seguono le forme quindi questa è una clessidra tipica l'attrice hollywoodiana e che appunto con abiti molto scollati diventa anche molto prorompente lei è una dei lati più più imitati dai chirurghi classici quindi in questo caso ha scelto un look attilato ma molto sobrio si anche perché le pieghe della gonna e questo io lo consiglio perché il tessuto tutto liscio mostra qualsiasi tipo di difetto una gonna con tutte le pieghe così maschera anche io vedo che il fisico a clessidra sceglie tanto il drappeggio anche ecco sì perché perché evidenzia ma non mostra in maniera non esibisce diciamo così mostra in maniera più delicata hai preso poi una un esempio un esempio una insomma si chiama diana von fustenberg vediamo insieme un vestito che è un esempio di questa stilista che sta molto bene e devo dire che anche di moda nella prossima primavera estate a questi abiti col drappeggio laterale trappeggio laterale questo che sembrano un po' anche le vestaglie che si avevano sì è vero sia nella fantasia però anche la fantasia non è maxi un po' a piccolino esatto non ha quei fiorelloni sì sì abbiamo detto le cose troppo grosse no solamente fantasie più delicate poi un altro trucco che hai trovato tu che è giusto è quello delle pieghe che non devono aprirsi sì perché chi ha tante forme e mette i vestiti con le pieghe tendono ad allargarsi allora vediamo le pieghe che non si devono aprire questo semi future vedete che in questo caso ha delle pieghe che sono le righe anche classiche classiche canoniche davanti ancora ancora ma dietro chi ha un fondo schiena molto grande rischierebbe di essere segnatissima con questo modello quindi scegliete delle pieghe adatte quindi deve essere le pieghe molto morbide che non si aprono subito perché sennò vedere la piega aperta è uno sfollagente come dico quindi attenzione occhio alle pieghe va bene adesso gli altri due fisici che analizzeremo dopo sono quello a mele e quello a rettangolo ma lo facciamo dopo la pubblicità tra poco allora vestiamoci in base al fisico che abbiamo abbiamo parlato del fisico a clessidra scusate a pera e a clessidra però siccome invece di fare noi gesti facciamoli vedere che così è più semplice potete capire in che gruppo appartenete il primo quello che dove vedete una x è chiaramente la clessidra sotto è uguale a sopra ecco vedete le spalle sono uguali ai fianchi come larghezza poi pera o quindi anche a triangolo eventualmente cioè la parte alta è più piccola di dei fianchi benissimo poi rettangolo c'è vedete che a differenza della clessidra ha la stessa parte uguale tra spalle e fianchi però non ha il punto vita segnato è tutto uguale tutto uguale ok il triangolo invertito è come la pellegrini che ha le spalle grandi e poi piccola sotto e piccola sotto l'ovale è la mela il tondo cioè la panciottina la parte un po gonfia un po grossa del ventre l'addome più piccolo di spalle e di fianchi vediamo c'è anche un altro un altro disegno che eccolo qua il primo è l'ovale c'è la mela la mela perché vedete che ha la pancia la pancia la mela sarebbe chi ha la pancia si chi ha un po tonda grossa e di addome di ventre di piancia poi il secondo è la pera pera stretta sopra larga sotto clessidra cioè con le spalle i fianchi uguali e la vita stretta poi c'è triangolo invertito diciamo noi la pellegrini per intenderci un fisico spallone poi tutto stretto rettangolo è molto simile alla clessidra però non ha il punto vita segnato esatto diciamo che sono uguali sopra e sotto sono uguali è uguale anche il punto vita è tutto così è come un rettangolo vediamo la mela allora quindi ricapitolando la mela è quella più o meno uguale con la parte più prominente del ventre della pancia magari sono quelli anche che tendono ad accumulare un po di peso sulle bracciottine in parte sopra vediamo le caratteristiche allora della mela che deve chiaramente poi nell'abbigliamento studiare le caratteristiche per non farle risaltare vediamole allora il seno è generoso non è una regola ma molto spesso chi è più grossino sopra anche un seno più generoso i fianchi rotondi sì la vita poco definita il sedere piatto ma anche qui non è una regola delle belle gambe e tende a ingrassare sul ventre sai chi è mela che l'ho vista in questi giorni a sanremo la bertè la bertè è una tipica mela che ha delle gambe pazzesche a 70 anni suonate ha delle gambe che io non avevo neanche quando avevo 20 anni mette fuori le gambe mette fuori le gambe tutto il resto lo maschera mettendo queste robe un po ma anche quando era più giovane era più bella ovviamente però ha sempre avuto questo questo fisico così quindi questo è un esempio allora cosa cosa si deve mettere il fisico a mela allora vediamo uno scollo che deve essere verticale perché perché per allungare chiaramente non mettiamo uno scollo rotondo che facciamo tondo su tondo ma cerchiamo di allungare la parte alta che è quella che deve essere un po tirata perché il solito discorso dobbiamo mettere l'attenzione non nella pancia e certo dobbiamo restringere la parte alta otticamente allungarla con lo scollo a v va bene poi un blaser deve essere asciutto quindi la giacca deve essere un po vediamola asciutta così come ve la sto descrivendo quindi non over non over dalla linea dritta con cose sottili non over e neanche stretch deve essere classica ok perfetto classica il cardigan come deve essere il cardigan può essere un aiuto perché buttato sopra comunque maschera un po la parte della parte alta dell'addome quant'altro molto spesso anzi magari se ha una maglia più stretta sopra si chiude una cardigan un po più largo sulla ventre e si copre anche la pancetta si perché tu dicevi no over però in questo caso perché il cardigan si e lo che copre in quel caso sta coprendo sta dando movimento e sta togliendo l'attenzione altrimenti qui per esempio con la maglia un po più stretta rischia di poi sembrare un po un pulcino ok quindi diciamo anche il cardigan va meglio della della giacca perché morbido si giusto invece la giacca rigida forse tende a ingrossare ancora di più quindi il morbido sulla lana sui tessuti sui tessuti morbidi bisogna giocare anche un po sui tessuti questo noi purtroppo dalla tela è difficile sempre spiegarlo certo il tessuto è importante per non ingombrare ulteriormente va bene le leggins ecco i leggins si dice i leggins sono le leggins ma io dico i leggins io ho sempre detto sì forse i leggins vede i pantaloni leggins oppure skinny le skinny sì 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 allora sì perché perché abbiamo detto che ha le gambe belle le gambe belle ha sicuramente anche le gambe magre un po come dicevamo un pulcino che è grosso nella parte sopra però poi le gambette sono sottili sì sì questo è il tipico fisico a me la le gambette sottili è tutto un po grosso sopra e quindi sì leggins è il fisico giusto è il fisico giusto anche quindi per le scarpe col tacco alto perché in questo caso vabbè questa è un fisico perfetto questa modella che hai preso però in generale anche una col fisico al mela se sopra si mette una cosa infatti lì anche lì ha la maglietta un po morbida poi è chiaro che è una modella quindi cioè per quanto si applichi non sarà mai una vera mela no però abbiamo capito il messaggio va bene vediamo è un trucco ecco un trucco è questo di scegliere delle maglie che abbiano dei drappeggio comunque una parte morbida sulla pancia sulla parte alta in questo caso al nero che snellisce sopra quindi ha tutta la parte nera che rende un po più piccola le braccia il seno e quant'altro questa morbidezza sull'addome sul sulla parte del fianco e poi restringe ancora sulle gambe qui quasi un premaman addirittura e sì che però serve appunto bene effetti il premaman la mamma la pancia grossa copre un po quello comunque è sicuramente morbido su quella parte quindi lo stile impero va bene a chi ha il fisico a mela va bene anche quello perché è tutto morbido sul sull'addome ecco l'intimo importante l'intimo e l'intimo deve essere contenitivo in questo caso può essere un aiuto guardate qua 50 sfimmature di outfit che è la stessa non ha soltanto il pantalone messo a vita alta anziché ovviamente a vita bassa ma ha proprio messo sotto un body contenitivo quindi tutta la parte di certo è molto meglio poi va bene i capelli sono dietro le orecchie però non cambia facciamolo rivedere no questo è importantissimo perché noi a volte riteniamo che l'intimo sia una cosa che interessa solo a chi lo guarda quindi a noi e ai nostri mariti i nostri fidanzati in realtà non è così perché con l'intimo giusto possiamo veramente cambiare il nostro aspetto infatti adesso adesso prendendo sempre di più questa moda dell'intimo contenitivo perché c'è quello che contiene le cosce quello che contiene la pancia c'è di tutto ormai prima lo usavano solo i vip sui red carpet non lo sapevamo invece abbiamo scoperto che esiste e nei tutti i negozi che vendono intimo lo potete trovare ma anche online sì sì ma poi ormai dei prezzi veramente accessibili e i tessuti prendete un tessuto traspirante spendete 5 euro in più però prendete un buon tessuto perché sennò non si respira e la taglia giusta anche lì non due taglie in meno perché non si riesce neanche a infilare no ecco già è faticoso entrarci esatto non troppo largo ma neanche troppo stretto l'ultima cosa degli abiti beh allora scegliamo vediamo l'abito ok ecco adesso cerchiamo di capire nel senso qual è l'abito ok questi due o è largo nel senso non attellato come per esempio la clessidra sì perché non dobbiamo segnare il punto vita oppure con il punto vita si segnato ma che poi si allarga nella parte dell'addome io addirittura lo metterei un po' più alto di questo stavo pensando anch'io io lo metterò anche un po' più alto così non si capisce bene dov'è la pancia dov'è l'addome si 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 inganna un po' l'occhio di chi ci guarda certo quindi quando noi vi spieghiamo che vestiti vanno di moda in primavera se vi diciamo che va di moda il midi piuttosto che voi sapete poi con che forma dovete prenderlo sì perché ognuna di noi sa che fisico ha cioè diciamocelo ognuna di noi si deve riconoscere poi magari non lo dice agli altri però dentro di sé lo sa e quindi poi si cerca gli abiti adatti va bene ultimo fisico che analizziamo oggi è il rettangolo ce lo fai rivedere rapidamente cristian il fisico rettangolo vediamo tutti i fisici che così capiamo qual è quello a rettangolo perché abbiamo visto pera mela clessidra e poi c'è il rettangolo dove vi anticipavamo che le spalle e i fianchi sono dritti uguali come vedete è la terza la figura in mezzo ma non ha il punto vita qua perché il punto vita per esempio il primo ha la x segnato bene e qui no è tutto uguale va bene adesso vediamo le caratteristiche le proporzioni sono semplici un fisico longilineo un fisico quasi androgino con il torace piccolo e per lo più un seno piatto spalle vita fianchi hanno la stessa lunghezza larghezza gambe longiline le gambette sono carine anche nel fisico rettangolo e il punto vita è poco segnato la differenza tra la mela e il rettangolo è che nella mela c'è anche la pancia nel rettangolo è tutto uguale giusto? sì 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 però le gambette sono belle in tutti e due le gambette sono belle in tutti e due casi il fisico rettangolo secondo me se voi vi riconoscete se siete quelle che magari soffrono un po' che hanno poco seno oppure che sono un po' androgeni che non sono femminili perché è un fisico molto asciutto ma molto anche diciamo poco prorompente però poco prorompente esatto esatto sono d'accordo allora cosa facciamo non mettiamo le camicie sfiancate no perché il nostro punto dolente è la vita quindi se noi mettiamo le camicie sfiancate cioè sono quelle che io chiamo sciancrate? no no al contrario queste qua vedi non vanno bene appunto non vanno bene ah sì 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 ok bisogna metterle in modo che ci segnino il punto vita lo dobbiamo creare noi un punto vita dove non c'è quindi se ci mettiamo una camicia larga perché non abbiamo seno e quindi ci vergogniamo è ancora peggio è ancora peggio perché sembra un camicione da notte questa cosa qua invece deve essere qualcosa che crei l'illusione ottica del punto vita esatto con per esempio i pantaloni a vita bassa perché il rettangolo ha delle belle gambe non ha il baricentro basso a volte ha il baricentro alto e quindi i pantaloni a vita bassa sì qui in questo caso abbiamo messo il... ha messo il maglioncino dentro il maglioncino dentro chiaramente questo modello peraltro va bene avrà la vita bassa ma io a mio non approvo il laccetto vicino alla chiusura a me non piace taglia un po' la taglia ah la caviglia? sì no assolutamente negativissimo anche a me non togliamo però il modello di pantalone è quello magari con una scarpa da tennis o risvoltino o un decoltè senza quel cinturino la pancia la pancia può andare fuori perché tanto è piatta non solo è piatta ma noi guarda come il cut out che c'è questa moda di fare dei punti tagliati può aiutare un fisico rettangolare perché se lo tagliamo in questo modo noi creiamo praticamente un'illusione di punto vita sì è vero è vero perché il fisico rettangolo non ce l'ha al punto vita quindi dobbiamo crearlo noi quindi è un seno piatto però noi facciamo un po' di risvolto sopra all'altezza del seno che gli dà lo evidenzia un po' e poi tagliamo i due lati con lasciando fuori la pelle creiamo praticamente una clessidra immaginaria con il nostro vestito bisogna giocare molto con le linee in questo caso certo va benissimo ok andiamo avanti altre caratteristiche si pancia fuori si abito a balze anche l'abito a balze va bene e infatti creiamo anche qui del movimento qua abbiamo creato anche la vita abbiamo non solo creato il movimento nella parte alta con tutte le rush ma abbiamo anche creato la vita come dicevi con la cintura e sì perché non c'è la vita quindi la dobbiamo creare noi e poi il vestito è morbido potrebbe anche essere più corto perché ha delle gambe belle la rettangola starebbe bene anche col vestito corto va bene l'abito perfetto qual è? l'abito perfetto lo vediamo subito è quello dove vi dicevamo è questo che sta malissimo se pensate questo abito con il fisico a mila pensate come sarebbe orrendo queste maglie le vendono e ogni tanto io mi chiedo ma chi le compra? ora ora mi sono risposta chi è rettangolo chi comunque ha bisogno di valorizzare un punto vita magari anche estremamente piatto ma darsi movimento quindi questa cinturina sottile che evidenzia ma non segna e anche quella forma lì con la balzetta quella balzetta che sì praticamente crea la vita sì crea la vita perché allargandoti sotto è come se avesse cioè crea una clessidra immaginaria diciamo così esatto una clessidra immaginaria ti piace la definizione va bene l'ultimo concetto da ricordare un riproporzionamento dicevamo come con le linee vi facciamo vedere come anche qui questa è un po' clessidra questa è una clessidra sì però ti fa vedere vorremmo farvi vedere solo le linee che crea questa è una clessidra che voleva accentuare le sue forme perché voleva farsi vedere aveva la vita piccola e come era prorompente ma un rettangolo se mette questo vestito magari con una scollatura diversa perché questa è molto è molto scollata però guardate come gioca con le linee e crea il punto vita sì sì perché è la cintura colore su colore che è un modo è un trucco sì per creare il punto vita sì il rettangolo ha un vantaggio rispetto alla mela che non ha la pancia sì perché entrambi non hanno la vita segnata però il rettangolo ha un vantaggio in più che non ha la pancia allora vi do ultime dritte veloci sul materiale ovvero che chi ha nella parte dove avete più fisico diciamo quindi per esempio un fisico a pera sui fianchi il materiale deve essere leggero non mettiamoli il velluto piuttosto che e attenzione alle borse non sono indifferenti perché a seconda di dove l'appoggiate se siete col fisico a pera e mettete la tracolla sul fianco allarghiamo ancora di più è vero quindi o mettete una tracolla alta sì o sotto il braccio o non usate la tracolla hai messi hai messi va bene credo che secondo me siamo state utili speriamo se non avete capito qualcosa riguardate la puntata sulla nostra app di Telenova va bene grazie Stefania grazie alla regia e a voi da casa ciao ciao